Ciao a tutti i Dreamers, sono Francesca e ben tornati sul canale e benvenuti in un nuovissimo video di Adopt Me in un nuovissimo giveaway! Oggi ragazzi ci sarà in paneo, dun 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 dun, come avrete capito dal titolo, un pink cat. Allora, andiamo con ordine. Se siete curiosi di vedere questo video, se volete più video, se volete più giveaway qui sul canale, lasciate un bel mi piace adesso, iscrivendovi anche al canale, tappando la campanella, Instagram, TikTok, troverete tutto giù in descrizione. Come giù in descrizione troverete anche il sito delle magliette. No, tesoro, un attimo! Giù in descrizione troverete il link per andare ad acquistare le nostre magliette a mezze maniche, lunghe maniche, felpe, felpe se non la zip, senza zip, per il cellulare, troverete di tutto giù in descrizione, quindi cliccate il primo link e vi porterà al sito. Allora, oggi ci siamo connessi per il 106esimo giorno e siamo a 142 stelline, siamo a 412 stelline. Il nostro golden egg è sempre più vicino e in casa abbiamo già degli intrusi. Style mirror 436 e still lion 08. Allora, iniziamo ad andare al centro, vediamo un po'. Le regole della per il giveaway... Oh, mamma mia, questa è la prima volta che la prendo questa macchina. Le regole per il giveaway le dirò in un momento randomico all'interno di questo video. Perché sono cattiva. Pagliamo un sorso di cioccolata, il che vorrà dire che mi farò i baffetti qui e qui. Cosa? Beh, a questo punto compriamo un ovetto, schiudiamo un ovetto e mentre sto schiudendo un ovetto vi dirò le regole per il giveaway. Allora, compriamo il pet egg perché nel video di ieri tanti tanti di voi mi avete detto Nono Franci compra il pet egg, non comprare il royal egg, il pet egg hai più possibilità di trovare un unicorno. Io mi fido di voi. Quindi eccoci qui con un bel pet egg che vuole già dormire. E nel frattempo, mentre il nostro egg dorme, cerchiamo un po' di informazioni sul pink cat. Vi va? Per chi non sapesse chi è il pink cat. Il pink cat è un pet limitato, non comune, che può essere trovato soltanto all'interno del pink egg. Il pink cat è uno dei primi pet aggiunti al gioco. Il pink cat non è più ottenibile se non attraverso trade. Va bene, aspettate, pick up. Tosu cammini. Cammina, non ci interessa. Occhio, wow. Oh, qui c'è gente. Ok, qui c'è gente. Please pay a free pet to fly. E continuiamo un secondo a leggere. Dicevamo, è stato uno dei primi e può essere ottenuto soltanto attraverso il trade. Costava 100 dollari, va bene, non costava nulla praticamente. È carinissimo, è quello neon, è super adorabile. Allora, io non ho ne ho anche full grow. Aspettate, chi altro salutiamo? Quindi abbiamo Katiuscia, a Style l'abbiamo salutato, Rossella, Sele Lion e poi abbiamo Maranella. Allora, quindi il pink cat è davvero uno dei pet più rari del gioco, soprattutto perché è stato uno dei primi pet ad essere aggiunti insieme al blue dog. Ora, dato che molti di noi abbiamo iniziato a giocare ad Adopt Me tardi, cioè io comunque a metà 2020 ho iniziato a giocare ad Adopt Me, quindi non è che ho tutti... In me mi sono persa qua. Vabbè, quindi non è che io ho tutti questi gingerbread. No, quindi io non ho tutti... No, no, mi sono persa davvero tantissimi, tantissimi pet. Nel frattempo vuole fare la doccia, quindi lo portiamo a fare da doccia. Mi sono persa davvero tanti, tanti pet, di quelli lì, che è ultra rari, mettiamola così. Quindi, credo che sia giusto, sia per me che per voi, riceverne comunque, avere modo comunque di riceverli. L'unico modo che... No, vabbè, io non dovevo fare il bagno. L'unico modo che io, ovviamente, ho per avere dei pink cat, se non con il trade, è comprandoli. Sono andata su Ebay e... Eccoli qui. Ho acquistato tre pink cat. Uno è per me. Uno è sempre per me da scambiare. E uno altro è per voi. Un bel pink cat che si chiama Bubblegum ed è preteen. Va bene? Poi, allora, lui ha fatto, quindi pick up, andiamo. Ormai casa nostra è stata invasa. Ciao, Antonio. Portiamo il nostro vetto all'ospedale. Poi lo portiamo anche a scuola. Quindi, ragazzi, non sono economici, eh, come pet. Aspettate, voglio provare a fare una cosa. Decisamente non sono... No. Volevo... Volevo metterlo qui, ma a quanto pare ho occupato. Dicevo, non sono molto economici come pet. Davvero, perché, certo, i più costosi su Ebay sono i Mega, Neon e cose del genere. Ma comunque, sia questo che i Blue Dog sono molto, molto costosi. E io ne ho acquistati addirittura tre. Ma va bene. Uno è... Quando compro un pet per me, soprattutto se è estremamente, estremamente, estremamente lalo, lalo, ho deciso di comprarne anche a voi. Soprattutto perché so che non tutti hanno la possibilità di poter comprare un pet, di poter acquistare i pet su Ebay. Mi sono fatte i baffetti? Mi sembra di no. Allora, il mio è addirittura fulgolo. Quindi dopo vedremo se... Che tipo di trucchi fa. Ma non vi dico quello Mega Neon quanto costa. Quello Mega Neon lo vendevano 80 euro. Una cosa assunta. Io comunque li ho pagati 11 euro l'uno, mi sembra. E' stata una bella spesa. Però comunque mi sono detta, per voi, questo ed altro. Allora, il nostro pet vuole fare già l'ultima missione. Quindi, mentre aspettiamo che voglia fare l'ultima missione, vi dico le regole per ottenere il Pink Cat. Per avere il Pink Cat, il regalo da me, dovete fare le seguenti cose. Vale un commento a persona. Ragazzi, un solo commento potete lasciare che è valido per il giveaway. Nel senso, potete lasciare Uh, che bel video. Commento qualsiasi. Ciao Franci, come stai? Bello questo pet. Quello che volete. Questo non c'entra niente con il giveaway. Però il commento con cui andate a partecipare al giveaway deve essere uno solo. Perché io me ne accorgo quando ne sono di più. E se lasciate più di un commento con scritto partecipo più il vostro nome Roblox verrete squalificati. Quindi non vincerete il pet. Ok? Non potete vincere il pet. Ok? Quindi un solo commento a persona con scritto partecipo e il vostro nome su Roblox. Mi raccomando, niente hashtag. Perché altrimenti andranno in una sezione spam. Non possono essere conteggiati per il giveaway. Quindi solo partecipo. Non mettete davanti a partecipo nessun hashtag. Nemmeno l'hashtag Never Stop Dreaming. Ragazzi, non dovete mettere nessun hashtag. Dovete semplicemente scrivere il nostro nome. Partecipo. E lo dovete fare una sola volta. Poi dovete assicurarvi di aver lasciato un mi piace a questo video. Di essere iscritti al canale. E aver attivato la campanella. E poi, se potete, seguirmi su Instagram e TikTok. Troverete i link in descrizione o nel primo commento di questo video. Ovviamente, se non avete Instagram e TikTok, non fa niente. Però, se ce li avete, andate a seguirmi. Allora, quindi, noi siamo stati accerchiati di nuovo. Sono sempre le stesse per Rosso, ne no? Abbiamo R79 Juve. Rossella, lui l'abbiamo già salutato. Melania Greta. E poi abbiamo anche Co... Co... Veronica. Non riesco a leggere il suo nome. Allora, mentre aspettiamo l'ultimo, l'ultimo, l'ultimo pet. L'ultima missione. Avvisiamo a tutti che sto registrando. E che non posso giocare con loro. Ok. Portiamo il nostro pet a mangiare. Lo portiamo a casa, perché tanto casa nostra è qui. Vediamo un po' come va. Vediamo, vediamo. Unicorno. Unicorno. Vogliamo l'unicorno. Unicorno. Cane. Sì. Cane. Oh, va bene. Allora, quindi, ragazzi. Quindi, andiamo a vedere. Guardatelo quanto è carino, ragazzi. Dai, ma guardatelo quanto è bellino. Vediamo un po' che trucchi... Ieri dobbiamo insegnare i trucchi. O già li conosce. Ok, gliene manca uno. Quindi andiamo a scuola a farglielo imparare. Burrillo! Che carino, che carino, che carino. E anche sonno. Però tanto è furro, quindi è inutile. Allora, andiamo fuori e andiamo a scoprire vari trucchi. Vieni. Vediamo che cosa sai fare, gattino. Quindi, allora, siamo qui. Allora, andiamo. Sit. E guardalo come si siede composto questo micino. Ed è stupendo. Poi abbiamo... Lay down. Oh, ma è down. Sembra molto, ma va bene. Bounce. Oh, che carino. Ok, sono dovuta entrare in casa perché tutti i fan mi avevano accerchiato e non riuscivo a vedere i trucchi. Oh, mamma. La casa è chiusa. Come fate ad entrare? Ci sono incastrate Rossella e Antonia si sono bloccate. Ma se io la chiudo, com'è possibile che entrano? No, ragazzi, ho dei seri problemi. Sono tutti hacker! Ma la casa è chiusa! Quindi, ragazzi, ricapitoliamo le regole per ricevere il regalo, il Pink Cat. Questo è un giveaway, che vuol dire che ci sarà un solo vincitore. Una sola persona potrà vincere un pet, perché come vedete ne ho tre. Uno è per me, uno è per scambiare in futuro, magari riesco ad avere qualche pet che mi interessa. E il terzo è per voi. Le regole quindi sono le seguenti. Un solo commento a persona con scritto partecipo al vostro nome di Roblox, senza hashtag. Essere iscritti al canale, avere attivato la campanella e aver lasciato un mi piace a questo video. E infine, se potete, seguirmi su Instagram e TikTok. Quindi, ragazzi, mi raccomando, rispettate le regole, siate gentili. Il giveaway termina tra un paio di giorni. Quindi, se oggi è domenica, facciamo mercoledì. Mercoledì terminerà il giveaway. E nulla! Spero che questo video vi sia piaciuto. Spero che siete felici di questo nuovo giveaway. E per iscrivervi al canale, tappate qui sul tallino. Mentre per vedere altri video presenti sul mio canale, cliccate qui sulle miniature. Io vi saluto e ci vediamo domani alle 15 con un nuovissimo video. Ciao! Ciao!